Terza giornata, mettetevi comodi e prepariamoci a una giornata rovente Altipiani oltre Fersina, lo sconto tra la prima e l'ultima della classe Premiro Lona Lasess, alla ricerca di punti preziosi Roncegno Ischia, un classico della seconda categoria Tesina Udace, scontro inedito tra due grandi del campionato Vigolana Valsugana, oggi i tre punti sono d'obbligo Il Giovo resta in attesa di conoscere il suo ruolo nel campionato Terza giornata di seconda categoria, giornata inedita Sono emersi i primi verdetti, ora si comincia a fare sul serio